Il giorno 0 e il 16 marzo 2022, con l'entrata in azione delle ruspe demolitrici, comincia la nuova vita dell'albergo Vela di Boario. L'edificio abbandonato all'inizio degli anni 90 era diventato il simbolo del degrado, dimora per senza tetto e spacciatori, meta di numerosi blitz dai carabinieri. Il 4 luglio 2021 un incendio gli ha dato il colpo di grazia. Prima ancora che vi sorgesse negli anni del boom del termalismo, l'albergo che ha ospitato per decenni turisti e termalisti, questo edificio era una segheria alimentata dalla ruota di un mulino mossa dalle acque dell'Ogliolo. Dopo la demolizione sorgerà un nuovo complesso residenziale con tre corpi che ospiteranno negozi a piano terra ed appartamenti nei piani alti. Le palazzine saranno costruite con le tecniche edilizie più all'avanguardia. Che abbia tutti i requisiti dal punto di vista della sicurezza antisismica, della garanzia di consumare la minor quantità di energia possibile. Vengono realizzati sia isolamenti sulla parte esterna che sulla parte interna delle murature perimetrali e il tutto dotato di pompe di calore alimentate con i pannelli fotovoltaici. Massimo comfort sia dal punto di vista delle dimensioni degli alloggi, sia dal punto di vista del comfort abitativo con terrazze e con ricambi d'aria controllati in modo da recuperare anche l'energia che verrebbe dispersa durante il cambio d'aria. Questo periodo triste di Covid ci ha insegnato che la qualità della vita all'interno della nostra casa è impagabile. Il complesso sarà più arretrato rispetto all'esistente per lasciare spazio ed un marciapiede ai portici sulla parte che si affaccia su via manifattura. Nelle adiacenze saranno realizzati nuovi parcheggi, a piano terra saranno ospitati negozi ed uffici, l'interrato sarà interamente utilizzato per le autorimesse. L'intervento nasce da una bella sinergia fra pubblico e privato. La nuova realizzazione è stata infatti salutata con entusiasmo anche dall'amministrazione comunale per la quale l'ex albergo Vela negli ultimi anni era diventato un problema. Io credo che sia una giornata storica che aspettavamo da oltre dieci anni perché oramai l'albergo Vela era diventato uno dei simboli del degrado, soprattutto di Boario. Vederlo abbattere questo edificio vuol dire iniziare un nuovo cammino, un nuovo percorso per quest'area, per via manifattura e per Boario. Il pubblico ha di buon cuore accettato l'iniziativa dell'imprenditore che andando controcorrente ha voluto realizzare di meno ma con maggiore qualità. Si è alla imprenditoria dei privati ridare dignità a quest'area, a questa zona e oltre a ridare dignità di sicuro ridare sicurezza anche a chi abita da queste parti. C'è solo un po' di rammarico per come si chiude un'era storica per la cittadina termale. Queste strutture sono diventate un po' il simbolo di quello che è stato l'abbandono di quel tipo di turismo.